ciao ragazzi questo è quello che abbiamo aperto ora vedrete il video chissà l'avremmo trovato avremmo trovato qualche top player chissà ora lo vedrete nel video come vedete abbiamo fatto uno spacchettamento misto tra calciatori e fut 2022 mi raccomando alla fine del video fatemi sapere sotto nei commenti se volete che continuo questo tipo di spacchettamenti su questa collezione francese se volete che porto invece calciatori o se volete anche che riporti qualcosa di adrenalin detto questo a me non resta che lasciarvi al video buona visione ragazzi ragazzi e ragazzi e soprattutto collezionisti bentornati sul canale oggi ci andiamo ad aprire un bel po di materiale fut 2022 ovviamente alla ricerca di messi e poi per i più curiosi alla fine ci andiamo ad aprire anche qualche pacchetto ovviamente del nostro campionato calciatori 2021 22 questi li mettiamo da parte li apriamo a fine video ora ci andiamo ad aprire questo bel pacchetto eccoci qua blister arrivato praticamente distrutto lo state vedendo voi in che condizioni è va bene per fortuna tanto lo dovevo aprire però ecco sicuramente se lo volevo tenere sigillato non era sicuramente questo il modo di farmi arrivare un boxettino che insomma lo vedete da voi le condizioni va bene detto questo ci andiamo ad aprire questi bei pacchetti alla ricerca di messi e non solo anche di me di neymar di un altro donna ruma perché già siamo stati molto fortunati insomma andiamo alla ricerca allora abbiamo la maglia del mezzo poi abbiamo sicuramente un giocatore del sant etienne poi abbiamo lefe del lorian abbiamo bruno di maires dell'olimpic lione e matusiwa del stadio ren molto bene vi faccio vedere un attimo al volo il raccoglitore come l'ho messo perché questo album della ligan è un album più piccolo e quindi entra interamente nella copertina di questo raccoglitore per le adrenalin quindi anche in questo caso potete fare un raccoglitore low cost anche per questa collezione mettendo semplicemente l'album nella copertina e non solo magari ritagliare la copertina come vi ho fatto vedere per il set di calciatori 2021 2022 andiamo avanti abbiamo un allenatore mamma mia comunque ragazzi la grafica di queste figurine mi piace davvero davvero tanto brassiere poi abbiamo due giocatori della serie b un anche il di maria molto bene il fideio molto molto bene nato a rosario in argentina avevamo cells dello strasburgo ci andiamo ad aprire un pacchetto calciatori così alterniamo un po se riesco a tirarle fuori senza fare danni eccoci qua allora abbiamo tonelli poi abbiamo strelez abbiamo lazio which abbiamo haraui abbiamo radunovic e basta andiamo avanti con un bel pacchetto foot 2022 e abbiamo il capitano con si e sni molto molto bene la grafica del capitano delle figurine dei capitani è veramente forse la più bella di di queste due collezioni che stiamo aprendo guardate incredibile poi abbiamo samba anzi sambia sambia forse due giocatori della serie b abbiamo gurna del sant etienne e abbiamo doram del mezzo tanti giocatori del mezzo stiamo trovando un altro pacchettino calciatori 2021 2022 abbiamo italiano che sta facendo davvero davvero molto bene con la fiorentina poi abbiamo iaialo dell'udinese abbiamo haron hikei poi abbiamo sanabria e il tonni e poi abbiamo bellez andiamo avanti con foot 2022 dai 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 panini dai panini francesi facci trovare facci trovare un bel mess un bel bappe allora due giocatori della serie b e rel altri due giocatori della serie b e laurent del loriano andiamo avanti dai dai vogliamo giocatori più forti dai dai allora una figurina speciale l'incontenibile molto bene dell'oriano poi abbiamo faes dello stad ren abbiamo dietà del monaco poi abbiamo zercane del bordeaux e abbiamo a sign on classe 2000 chissà che non sia una rughi ragazzi potrebbe essere interessante questa andiamo avanti allora una carta speciale dello strasburgo poi abbiamo yusuf del santedienne alevian aleviana ok poi abbiamo 106 del mezzo o abbiamo dolberg del nizza interessante questo ragazzo molto interessante bene ora ci andiamo ad aprire un pacchetto invece calciatori 2021 2022 anche qui alla ricerca di un top player e abbiamo tre giocatori del lecce tre giocatori del como de ciglio molto bene la maglia dell'inter che a me quest'anno piace particolarmente fa comunque una maglia storica perché allo scudetto sul petto e sportiello altro pacchetto calciatori 2021 2022 bonifazi veretu della roma e kevin lasagna andiamo con il penultimo pacchetto di foot 2022 vediamo vediamo abbiamo petkovic vecchia conoscenza del nostro calcio ex allenatore della lazio e cambi del lione motiva dello strasburgo fontaine dell'orient e a war dell'olimpic lione questa è ottima ragazzi questa è veramente ottima a war che era stato anche accostato a squadre italiane come la juve nelle scorse finestre di mercato molto interessante questa ci andiamo ad aprire l'ultimo pacchetto calciatori 2021 2022 e troviamo meret del napoli dionisi del sassuolo ottimo allenatore orsolini del bologna sumarò del bologna sempre e quattro scudettini a proposito di sumarò torniamo in francia con l'ultimo pacchettino vediamo che non ci siamo tenuti il meglio per ultimo oh abbiamo pagheta dell'olimpic lione molto bella questa grafica anche di questa tipologia di figurine poi abbiamo due giocatori della serie b abbiamo alfred gomis del renne abbiamo l'umeka e abbiamo fofanà del monaco classe 1999 che dire ci siamo aperti questo blister sicuramente quella che risalta più di tutte è elfideio hangel di maria per quanto riguarda invece la serie a facciamo un veloce recap forse vere tu vediamo vediamo eh c'è anche la maglia dell'inter ma c'è anche desciglio sì forse forse vere tu che dire ragazzi con le figurine di vere tu e angel di maria vi invito a iscrivervi a lasciarmi un commento qua sotto ditemi se volete che continuo questa serie sulla liga anna e su ovviamente foot 2022 se volete che riporti qualcosa di adrenalin insomma mi fa piacere leggere sotto i vostri commenti quindi fatemi sapere cosa ne pensate detto questo a me non resta che salutarvi ringraziarvi se siete arrivati fin qui e augurarvi una buona giornata eh quel messi niente